Ben trovati a tutti i web spettatori di TV Radicale, ci scusiamo per il grave ritardo con il quale cominciamo le nostre trasmissioni in diretta, la faccio veramente breve, oggi è domenica 18 settembre 2011, io sono Rocchi Vi Parla e Roberto Mancuso, passiamo immediatamente la linea al neodirettore di TV Radicale Gianni Colacione per una introduzione, un saluto che vuole fare dal nuovo direttore a tutti i web spettatori di TV Radicale. A te la linea Gianni. Buonasera a tutti coloro che ci seguono per la prima volta, per tutti coloro che sono ormai degli abitué, volevo fare una rapida introduzione, una rapida presentazione a seguito della nomina a questo punto in carico che è molto importante per me, molto lusinghiero, spero di essere in grado di, soprattutto relativamente all'efficacia e relativa alla nostra mission che abbiamo sulla nostra mozione congressuale specificato, molto chiaro. Volevo soltanto sottolineare un aspetto di questa nomina, di questa come di qualsiasi altra nomina che sarebbe stata, una altra persona, cioè è una nomina che per quanto non sia un incarico elettivo è una conseguenza abbastanza diretta dagli esiti congressuali, di un congresso che si è svolto a mio parere nella migliore delle realizzazioni e di ciò che potremmo immaginare con le sue elezioni e a seguito delle quali poi dopo sono state fatte le nomine, tra qui la mia. Quindi è anche un esempio, è anche una conseguenza di un congresso che si è svolto nella piena legalità di ciò che era stato stabilito come regolamento congressuale. Cercherò di portare avanti le intenzioni che abbiamo prima durante il congresso, discusso, dibattuto e fissato nei documenti congressuali. Ho intenzione di cercare di trovare dei collaboratori sul territorio che possano essere disponibili come delle piccole unità operative per poter avere dei riferimenti su tutto il territorio affinché TV Radicale possa raggiungere più eventi possibili e informare in modo assolutamente trasversale sui vari eventi della politica e anche non, perché abbiamo anche idee per cercare di esulare un pochino dallo stretto ambito politico. Invito tutti quanti voi, come già fate con la chat, a completare il più possibile questa caratteristica che ha questa web tv, cioè che è l'interattività, completarla praticamente con un contributo che voi potrete dare ogni volta che alla fine delle dirette potrete commentare sul nostro sito, dare suggerimenti, dare delle indicazioni, anche ovviamente delle critiche e delle proposte per chiaramente migliorare il tutto. Quindi vi do appuntamento per quanto riguarda tutto, c'è il lavoro che facciamo sul nostro sito, io leggerò attentamente quanto direte e quanto contestereete soprattutto. Dopodiché diamo il punto di via a queste trasmissioni, il Prinzesto è molto importante e quindi non ho altro da dirvi, se non ringraziare della stima che mi è stata accordata e ringraziare tutti voi che ci seguite tutte le domeniche. Grazie Roberto. Grazie a te Gianni e ti giunga il mio in bocca al lupo per questa avventura che cominci, sono sicuro che saprai come hai già fatto, come hai già dimostrato di saper fare, saprai dare il tuo contributo importante come direttore di TV Radicale.